Margherita Panziera, oro nei 100 d'orso, come valuti la gara di oggi? Adesso vedo che cosa ho sbagliato, che ho sbagliato sicuramente qualcosa, che il 100 ogni volta ci sono problemi e sono curiosa di vedere il 200 di domani che è la mia gara dove voglio qualificarmi per il mondiale e quindi vedremo. Quindi quest'anno sia mondiale che europeo sono gli obiettivi della stagione? Sì, 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 no, comunque anche se ho da gennaio diciamo un po' cambiato leggermente gli allenamenti così e ce la siamo presa un po' più con calma all'inizio dell'anno anche perché abbiamo visto che l'anno scorso invece abbiamo spinto tanto all'inizio e sono arrivata alla fine, pesavo 60 kg, ero un po' sciupata, quindi diciamo non ero arrivata proprio in forma ma invece quest'anno abbiamo preferito partire un po' più rilassati, tra virgolette, giusto per prendere il tempo per il 200, per il mondiale e dopo spingere nella seconda parte di stagione, quindi vediamo, insomma domani l'obiettivo è la qualifica e dopo si vedrà. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie.